Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video della serie Affetti Brevi in 30 giorni. Quest'oggi, come avrete potuto intuire dal titolo, parleremo dell'assicurazione di Airbnb. Non tanto perché è un servizio a noi indispensabile, perché oggettivamente viene utilizzato molte poche volte durante l'arco dell'anno, talvolta anche zero, ma ne parleremo perché invece è una leva che può essere utilizzata con i proprietari di casa per convincerli a fare questo business o anche a voi stessi, nel senso che può aiutarvi a convincervi ad entrare in questo business, perché molte delle leggende metropolitane che ruotano attorno a questo fantastico modello per fare soldi sono errate. Tra queste leggende metropolitane annoveriamo sicuramente quella che gli ospiti ci distruggono casa. In questo video vi spiego il perché non è così. Partiamo dal presupposto che Airbnb, a differenza di Booking, ti permette di recensire anche l'ospite. Che cosa significa? Se io soggiorno in un hotel o in una struttura ricettiva su Booking, io ospite e soggiorno la struttura, ma la struttura non può soggiornare me. La struttura può segnalarmi come, diciamo, utente poco serio, poco pulito, comunque utente non gradito. Però su Airbnb invece esiste un vero e proprio sistema di recensioni, dove io recensisco la struttura nella quale ho soggiornato, ma è anche la struttura che recensisce me. Quindi se io ospito e ho lasciato la casa a uno schifo particolarmente sporca, il proprietario di casa può lasciarmi una recensione negativa, una, due, tre stelle, così facendo i futuri proprietari di strutture ricettive, i futuri host, possono dire ah, caspita, questo qui ha ottenuto una recensione negativa o più recensioni negative e io non lo ospito. Quindi c'è un vero e proprio senso di comunità, dove gli host si aiutano tra di loro, dove io, Ludovico, non farò soggiornare delle persone se queste persone si sono comportate male in altre strutture ricettive. E questa sorta di blocco, passatemi il termine, può avvenire in maniera automatica o manuale. Nel senso che noi possiamo impostare, quando carichiamo un annuncio su Airbnb, due opzioni. L'opzione uno è automaticamente tu accetta solo le persone che hanno ottenuto valutazioni positive, oppure dai la possibilità di accettare qualsiasi tipo di prenotazione. Se arriva una richiesta da parte di una persona che magari non è stata consigliata da altri host, non è che viene automaticamente rifiutata, anche perché magari, insomma, è una recensione di cinque anni fa, ci sta che la persona nel frattempo si sia data una svegliata, ma appunto non viene rifiutata, bensì ci viene data la possibilità di manualmente decidere se accettare o meno la prenotazione. Quindi le casistiche sono due. O noi impostiamo che qualsiasi prenotazione può arrivare, oppure impostiamo che, se appunto l'ospite non è stato recensito bene e soprattutto non è stato consigliato da altri host, noi possiamo decidere manualmente se accettarlo o meno. Ma cosa significa essere stati consigliati da altri host? Significa che quando io, host, quindi ad esempio Ludovico, recensisco un ospite, oltre a poterli mettere le varie stelline su come si è comportato, eccetera, eccetera, posso anche proprio letteralmente scegliere tra sì e no. La domanda è, quest'ospite lo consiglieresti ad altri host, sì o no? Io posso aver messo cinque stelle e non consigliarlo, perché magari comunque, non lo so, non si è comportato bene, ma non si è comportato bene, è stato cafone, quindi non lo consiglio, seppur ho lasciato cinque stelle su tutti i temi, oppure posso al contrario, magari averli lasciato tre stelle perché ha lasciato la casa sporca, ma alla fin fine consigliarlo, perché magari non è stato così poi particolarmente scortese. Quindi la correlazione tra stelle ed essere consigliati o meno non è così stretta, cioè per logica se io lascio una recensione negativa, tecnicamente non dovrei consigliare quest'ospite, o meglio, io ragiono così. Però vi spiego come funziona proprio Airbnb, io posso lasciare una recensione positiva e non consigliare l'ospite, o posso lasciare una recensione negativa e consigliare l'ospite. Non ha nessun tipo di senso logico? Sì, concordo con voi che non ha nessun tipo di senso logico, però così è come funziona la piattaforma. Ma in realtà, ripeto, è una cosa positiva, perché questo ci permette di avere il pieno controllo sui nostri ospiti. Innanzitutto perché se un ospite appunto non è stato consigliato, io posso decidere di non farlo soggiornare nella mia struttura ricettiva, e in secondo luogo, e torniamo al tema originario, l'ospite non ha nessun interesse nel comportarsi male, perché se si comporta male, lì lasciamo una recensione negativa, e se lui ha una recensione negativa, nessuno vorrà poi ospitarlo. Oltre a questo, non dimentichiamoci che noi siamo in possesso dei documenti, di identità di queste persone, perché li abbiamo caricati sul portale della polizia per il famoso alloggiati web. E ve lo dice uno che negli anni, seppur veramente poche volte, comunque qualche richiesta di risarcimento danni ad Airbnb l'ha fatta, talvolta anche da migliaia di euro. E sono estremamente contento di dirvi che non ho mai avuto problemi. Nel senso, sono stato sempre rimborsato. Ma come funziona? Quindi perché una leggenda metropolitana, quella di mi distruggono casa? Abbiamo visto dal punto di vista, diciamo, di prevenzione, quanto è comunque semplice prevenire questo tipo di problema, attraverso le recensioni, o comunque anche gli ospiti sono molto educati, in tal senso consapevoli che abbiamo i documenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se dovesse succedere, il funzionamento è super semplice. Io vado su Airbnb, richiedo innanzitutto all'ospite di ripagarmi questo danno, quindi effettivamente gli descrivo quello che è successo, gli allego delle prove così che lui sia consapevole. Se l'ospite decide di non pagare per qualsiasi motivo, perché dice che non è stato lui, perché ignora la richiesta, perché vuole fare il furbo, noi possiamo scalare il caso ad Airbnb. Quindi se l'ospite accetta, ben venga, ha pagato lui, l'importante è che qualcuno paghi. Ma se non dovesse accettare, o dovesse dire che non è vero, il caso viene scalato ad Airbnb, che leggerà tutto quello che abbiamo scritto, gli elementi che abbiamo allegato, e ci penserà lei stessa a pagare il danno fatto. Ovviamente, attenzione, non è che Airbnb paga ad occhi chiusi, controlla che effettivamente le immagini appartengano a quella casa, che ci sia realmente un danno, e che l'importo che state chiedendo è giù di lì, insomma, quello corretto. È ovvio che per una sedia rotta non potete chiedere 2000 euro. Magari quella sedia costa 100 euro, voi ci calcolate anche il fatto che dovete andarla a prendere, la benzina, quello e quell'altro, chiedete 150 euro, mandate un link dove quella sedia costa 150 euro, e vi vengono dati questi soldi. Però, comunque, c'è sempre un minimo di controllo da parte di Airbnb. Ma se lavorate e operate in maniera seria e onesta, non mi è mai successo che Airbnb non mi paghi. Quindi, state tranquilli, funziona veramente bene. E a differenza di un'assicurazione solita, non c'è il perito, la polizza assicurativa, la franchigia, eccetera, eccetera, eccetera. No. Questa assicurazione è attiva di base su qualsiasi pronotazione su Airbnb. e vi paga in tempo zero, senza periti, senza franchigie, senza rotture di scatole, con i soldi accreditati direttamente su PayPal o conto bancario. Sono sicuro, però, che alcuni di voi staranno pensando, Ludovico, ma magari io questo prodotto l'ho acquistato anni fa, o mi è stato regalato, l'ho trovato già dentro casa, e non ho lo scontrino per far vedere effettivamente quanto l'ho pagato. piuttosto che non esiste più questo prodotto, non posso sostituirlo perché è fuori produzione, o addirittura è fallita l'azienda che lo produce. E allora non vi preoccupate, l'importante è mandare un link di Amazon, di Ikea, o la ricevuta, se l'avete già acquistato, di un prodotto equivalente. Se ad esempio mi è stato rotto un TV 40 pollici full HD, e oggi un TV full HD non esiste più perché esistono solo i 4K, prenderò un televisore delle stesse dimensioni, seppur addirittura qualitativamente migliore, e Airbnb mi rimborserà il nuovo televisore. Però anche qui, attenzione, non è che vado a prendere il 4K OLED 100 pollici, che mi fa anche il caffè, deve essere un prodotto simile. Talvolta anche migliore, ma deve essere un prodotto simile, non che sostituisco il tubo catodico col videoproiettore. Le tempistiche per risolvere questa tipologia di problemi di norma sono 24-48 ore, a esagerare di norma si va sulle 72 ore, e anche qui il feedback che ho avuto da parte degli studenti B&B Academy è comunque ottimo. Quando hanno avuto problemi, li abbiamo aiutati noi all'interno della community, e sono sempre riusciti ad ottenere il rimborso. A tal proposito, vi ricordo che B&B Academy, l'accademia da me fondata, è il corso di formazione e la community più grande d'Europa per tutto quello che riguarda gli affitti brevi. E se volete approfondire il tema, qua in descrizione trovate dei contenuti gratuiti. Tra le varie cose, anche la possibilità di prenotare una consulenza gratuita con il nostro team, per aiutarvi a capire se questo percorso può fare a caso vostro. Ma proseguiamo con il video, perché questo è un tema veramente importante, che penso che possa far scegliere a tantissimi di voi di intraprendere questo business, perché veramente nessun business vi dà queste tutele. Al contrario, anzi, spesso lavorare in determinati business online significa avere contro le piattaforme, con magari Amazon che devi inviare dei prodotti ai clienti, fanno il reso e Amazon non ti tutela per niente da questo punto di vista con i resi. Quindi forse questa è la prima e unica casistica dove un grande colosso come Airbnb ti aiuta, ti rimborsa, ti supporta nell'attuare il tuo business, mentre dall'altra parte abbiamo visto veramente tantissimi altri business dove questi grossi colossi praticamente ti fanno una guerra. E voglio parlarvi dell'ultimo, diciamo, caso studio in ambito rimborsi che mi è successo un po' di tempo fa, ovvero un ospite ha rotto una chiave nella serratura della porta di casa e ho ottenuto un rimborso di ben 400 euro per risolvere questo problema. Vi allego qui gli screenshot per farvi vedere, insomma, che è un caso studio reale, non è un qualcosa di inventato. Il tutto è stato risolto in maniera super semplice perché ho mandato una foto del danno, il preventivo da parte della persona, del fabolo, insomma, che avrebbe risolto il problema e Airbnb mi ha pagato senza batter ciglio. Per chiudere il video, alcuni di voi si staranno chiedendo Ludovico, ma su Booking invece, visto che parli spesso anche di Booking, su Booking puoi chiedere una caparra anticipata, quindi prima di entrare puoi impostare il fatto che all'ospite venga addebitata anche una caparra per eventuali danni che eventualmente puoi trattenere, oppure in aggiunta o in contemporanea, passami il termine, puoi anche decidere di stipulare un'assicurazione esterna. E dentro Airbnb Academy abbiamo delle convenzioni e spieghiamo quali sono le migliori. Per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un bel mi piace, farmi sapere cosa ne pensi nei commenti, il tutto per supportare questo lavoro che stiamo facendo, e ancora una volta trovi qua in descrizione un e-book gratuito che abbiamo realizzato per aiutarti a partire o scalare il tuo business di affitti brevi. Io sono Ludovico Cianchetta Vaskets, fondatore di Airbnb Academy, ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.